Niente codi agli sportelli per prenotare una prestazione sanitaria, sarà possibile farlo facilmente a portata di click comodamente da casa attraverso smartphone e tablet connessi ad internet. Il nuovo servizio per i cittadini campani che consente di prenotare online le visite specialistiche o l'accertamento diagnostico nelle strutture pubbliche aderenti al centro unico di prenotazione, il CUP regionale della Campania. Per tutti sarà possibile collegarsi al portale Salute del Cittadino o all'app Campania in Salute e prenotare la visita specialistica o gli accertamenti. Basterà insomma inserire i dati della ricetta medica e il codice dell'impegnativa. Il primo appuntamento disponibile dipenderà dalla priorità indicata dalla ricetta. La ricetta infatti prescrive prestazioni urgenti indicata dalla lettera U di media urgenza con la lettera B, differibili con la lettera D e programmabili con la lettera P. Il servizio offre inoltre a tutti i cittadini campani la possibilità di confermare i preappuntamenti per le seconde visite e pagare il ticket con carta di credito. Prenotare, confermare e pagare online anche per conto dei familiari rimane in ogni caso sempre possibile recarsi direttamente al centro unico di prenotazione o in farmacia. Sempre online si potrà allo stesso tempo cambiare il medico di famiglia o il pediatra di fiducia anche per i figli minorenni, dichiarare il reddito per ottenere l'esenzione ticket, consultare l'elenco dei vaccini effettuati. Il fascicolo sanitario elettronico offre infatti informazioni su Green Pass, attestato di esenzione, ticket per patologie, dati delle prestazioni farmacologiche specialistiche e dei referti di laboratorio. Il link del sito e l'app negli store online saranno attivi dal lunedì 11 aprile.